Troppi pazienti in arrivo al pronto soccorso del CTO, sospesi i ricoveri programmati, ossia quelli non urgenti all'ospedale dei Colli, nei reparti di pneumologia e oncologia protempore, chirurgia cardiovascolare dei trapianti, clinica pneumologica, terapia intensiva respiratoria, medicina infettivologica dei trapianti, medicina e chirurgia di accettazione di urgenza. La disposizione è arrivata con una nota, firma il direttore sanitario aziendale dell'ospedale dei Colli Giuseppe Fiorentino e sarà valida fino a una nuova comunicazione. Nella nota si legge, visto l'aumento dell'afflusso dei pazienti in arrivo presso il pronto soccorso del presidio che necessitano di ricovero presso le unità operative, si dispone la sospensione dei ricoveri programmati a decorrere dalla giornata odierna e fino ad una nuova comunicazione. Una decisione che però sta suscitando molte critiche. Il consigliere comunale Nino Simeone ha scritto al sindaco Manfredi e all'assessore alla salute Sant'Agata chiedendo che il comune intervenga per porre in essere ogni possibile azione al fine di scongiurare la sospensione dei ricoveri programmati verso l'ospedale Monaldi. Ritengo che tale situazione sia assolutamente inaccettabile, scrive. Bloccare i ricoveri programmati dopo le gravissime problematiche causate da quasi tre anni di pandemia significa negare a tanti cittadini il fondamentale diritto alla salute che la nostra Costituzione sancisce. Inoltre, l'ospedale Monaldi rappresenta una struttura di rilievo nazionale ritenuta un'eccellenza nel campo pneumologico e cardiovascolare punto di riferimento per l'intero comparto sanitario della campagna e dell'intero mezzogiorno. Sostengo che sia oltremodo doveroso per il comune di Napoli porre in essere ogni possibile azione al fine di scongiurare la sospensione dei ricoveri programmati al Monaldi ed evitare così che le carenze organizzative e il sistema sanitario abbiano ripercussioni ancora una volta drammatiche sulla salute di tanti pazienti.